Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi farò vedere la rincalzatura dei fagioli e anche la terza concimazione che faccio ai fagioli io la prima e la seconda non ve l'ho fatta vedere perchè non ho avuto tempo e poi l'avevo fatta prima di iniziare questa serie di video sulla concimazione però dovete metterci prima dell'etame e poi dovete metterci un po' di concime a base di azoto però vi farò vedere un video che farò d'estate l'estate inoltrata vi faccio vedere come semino un'altra varietà di fagioli l'operazione che adesso farò è mettere la concima in lenta cessione come terza concimazione in entrambi i lati del solco esempio queste sono le piante metterò della concime qui e della concime qui la stessa cosa anche di qua della concime qua e della concime anche qua poi con la zappa la interro e faccio un solco abbastanza alto questa è la rincalzatura adesso metterò la concime io da questo lato qua già ce l'ho messo perché ho già rincalzato e faccio un solco abbastanza alto e adesso rincalzo in questo modo scusate ecco qua ora faccio vedere anche da questa parte qua faccio metà solco per non fare il video troppo lungo così avviene la rincalzatura ma probabilmente dovete fare in entrambi i lati così adesso si è formato un solco dove potete ridare ecco qua adesso continuerò il solco spero che questo video vi sia stato utile lasciate like se non vi siete iscritti al mio canale iscrivetevi e alla prossima e seguitemi anche su instagram e su facebook dove pubblico molti post sull'agricoltura e alcuni miei aggiornamenti sui video ciao e buona coltivazione a tutti e buona coltivazione a tutti